e terzo e penultimo atto della Coppa Provincia di Latina il Palapontini ospita appunto le semifinali della competizione post campionato di fronte lo United Aprilia secondo posto nella regular season nel raggruppamento a il giro del campionato provinciale di serie di ospita appunto affronta l'Olimpo Sporting Club a battere questo primo calcio d'avvio con Alicandro. Quintetto che ha iniziato Masullo, Galliedi, Pompili e intanto ci prova proprio San Germano il primo tiro della conantesa in maniera pulita e fa ripartire subito l'Aprilia Galliedi scodella in avanti di Giorgio e c'è la risposta di Caramanica riparte l'Olimpo subito fa tutto da solo il tiro e Masullo con le mani alza sopra la traversa pallone ribattuto e c'è la possibilità per il gol e il vantaggio lo United è grossa in decisione in difesa dell'Olimpo Sporting Club va a sbagliare Conte si ferma a ragionare Pompili vede Galliedi ci prova ed è Caramanica che ha ad opporsi Ricci San Germano adesso l'Olimpo la finta con il corpo la risposta di Masullo c'è il fallo su di Giorgio che se ne va non c'è fallo prova di Giorgio il tiro la risposta di Caramanica Treglia si gira davanti a se Cianfanelli ma c'è anche Pompili adesso se ne va di Giorgio da solo contro Caramanica il gol del raddoppio con Orlando di Giorgio Guaramonti Pompili mette la palla per Criscuolo esce Caramanica gli va a soffiare il pallone Alicandro il tiro e c'è ancora Masullo insomma è difficile batterla e anche oggi vediamo che sta difendendo molto bene intanto c'è stato il pericolo Minutolo riparte lo United sbilanciato all'Aprilio adesso Piro Lozzi fa tutto da solo la palla messa in mezzo Cianfanelli Pompili il diagonale la risposta di Caramanica tutto per tutto Minutolo adesso facendo alzare il baricentro al suo Olympus Minutolo la palla messa in mezzo si gira San Germano c'è sempre Masullo Minutolo che avanza fa tutto da solo se ne va prova a mettere il pallone in mezzo lo fa per corrente il tiro la deviazione poi ha provato a venire fuori adesso è Criscuolo che va a recuperare un pallone Guaramonti è in mezzo per Criscuolo e esce Caramanica e salva alla messa in mezzo lo fa recuperare Cianfanelli allontana l'insidia adesso c'è l'Olympus con Alicandro Treglia Pirolozzi tiro maldestro per la gara il pallone soffiato da Pompili non funziona perfettamente il e c'è l'Euro gol di Gian Maria Cianfanelli palla persa recuperata dall'United Pompili c'è di Giorgio la possibilità per allungare ancora San Germano la finta con il corpo a rientrare il tiro e anche questo gli nega Masullo ricevuto da Minutolo San Germano ci prova ancora anzi addirittura Minutolo di Giorgio con rabbia se ne incarica Galieti contro Caramanica e spedisce fuori e finisce qui lo United è la prima finalista della Coppa Provincia Latina batte l'Olympus Sporting Club per tre a zero